24 agosto 1991 indipendenza dell'Ucraina federata fino a quel giorno nell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche costituisce una repubblica indipendente e crea con altre 10 ex repubbliche sovietiche la comunità degli stati indipendenti amministrativamente l'Ucraina è suddivisa in 24 province una regione autonoma e un'area metropolitana quella della capitale Kiev gli ucraini rappresentano il 72,8 per cento della popolazione totale predominando largamente nelle regioni occidentali del paese Galizia 90 per cento e Volini a 96 mentre le regioni orientali e le regioni costiere Crimea Odessa presentano una composizione più variegata i russi 11,3 milioni su 53 milioni di abitanti dell'intero territorio dello stato sono maggioritari nella repubblica autonoma di Crimea nel bacino minerario del Donetsk Donbass e nella provincia di Lugansk le minoranze etniche sono costituite da 325 mila moldavi 220 mila polacchi 163 mila ungheresi 134 mila rumeni e 46 mila tatari le difficoltà e il dissesto economico generale che hanno contrassegnato l'avvio della fase di indipendenza hanno influito pesantemente soprattutto sul settore agricolo i cui livelli di produttività hanno subito un vistoso ridimensionamento per almeno un decennio l'industria pesante siderurgia metallurgia chimica attinge ancora ai ricchi giacimenti locali di minerali di ferro e ai depositi di carbone